ben tornati nel mio canale cari amiche oggi vi voglio proporre un motivo per la lavorazione di uno sale triangolare è un motivo raffinatissimo molto semplice da seguire formato esclusivamente da due giri 1 di andata e uno di ritorno la parte del diritto del lavoro sarà dove ci sono i giri di petali è molto veloce da lavorare perché è lavorato su giri di maglie alte doppie e poi vi farò vedere che quando si andrà a terminare i giri che riguardano il fiore si terminerà con una maglia alta tripla e si comincerà con 7 catenelle mentre nel giro secondo questo delle delle maglie basse si inizierà il giro con 5 catenelle e si finirà il giro con una catenella e una maglia alta doppia io sto usando un filato sfumato con un uncinetto del numero 4 mi è piaciuto l'idea dello sfumato con coi toni floreali ma è bellissimo motivo molto delicato anche fatto con un materiale in tinta unita io sto utilizzando un misto cotone e viscosa ma dovrebbe essere molto bello anche realizzato in un filato in angora misto angoro mistomo è bene adesso iniziamo con il tutorial si inizia dalla parte centrale e ci si allarga sui lati aumentando appunto nelle parti finali dei vari giri e automaticamente prenderà la forma di triangolo poi nell'ultimo giro andremo a fare una finitura molto semplice poiché questo fiore da già la forma di arco dei vari archi sul nostro fondo dello sale andremo inserire solamente dei pipiolini ok buona visione con un cinetto del numero 4 è un filato e misto cotone viscosa vado ad iniziare il mio campione del mio sale faccio 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 carico il filo faccio una maglia alta nella prima catenella lavorata 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico due volte il filo vado a fare una maglia alta doppia nello stesso punto di base una catenella carico due volte il filo altra maglia alta doppia nello stesso punto di base 3 catenelle una due tre carico una una volta il filo maglia alta nello stesso punto di base una catenella carico due volte il filo maglia alta doppia nello stesso punto di base ecco questo è il motivo di partenza dove svilupperemo i nostri fiori e il nostro scialle fatti questi sono praticamente due punti tv ora giriamo il lavoro e cominciamo il giro dei fiori il primo giro verrà fatto in questo modo 7 catenelle 2 3 4 5 6 7 nel saltiamo questo questo piccolo arco l'inizio nel secondo grande di 3 catenelle andiamo lavorare in ogni catenella un petalo formato da 3 maglie doppie alte chiuse insieme divise da 3 catenelle quindi carico due volte il filo entro nella prima catenella e vado a fare una doppia maglia alta non chiusa due volte il filo rientro nello stesso punto di base maglia alta doppia non chiusa due volte il filo sull'uncinetto terza maglia alta doppia non chiusa ed ora le chiudiamo tutte insieme questo il primo petano 3 catenelle di separazione 3 rifaccio lo stesso lavoro sulla seconda catenella se quella che segue faccio vedere maglia alta doppia non chiusa nello stesso punto di base maglia alta doppia non chiusa nello stesso punto di base 3 e chiudiamo insieme 3 catenelle di separazione terzo petalo nella terza catenella catenella quella che segue quindi due volte il filo facciamo la stessa lavorazione seconda terza chiudiamo tutto insieme una catenella carico due volte il filo nello spazio sottostante di una catenella tra le due maglie alte doppie vado fare la maglia alta doppia una catenella ora ricomincio sull'arco seguente di 3 catenelle lo stesso lavoro la stessa lavorazione che ho fatto di questo fiore di questi petali quindi carico due volte il filo e comincio nella prima catenella a fare il primo petalo 3 catenelle di separazione una due tre secondo petalo nella seconda catenella 3 catenelle di separazione 2 3 terzo petalo nella terza catenella due volte il filo stesso lavoro nella terza catenella il giro del fiore si si chiuderà con 2 catenelle ed una maglia alta tripla nella quarta catenella nella quarta catenella nel giro precedente e qui ci sono già i primi fiorellini ho girato il lavoro terzo giro del ventaglio mi alzo con 5 catenelle 1 2 3 4 5 ora iniziamo a fare l'aumento l'aumento infatti viene fatto nel giro delle non dei petali ma nel nel giro intermedio quello dove ci saranno adesso farò vedere ci saranno le maglie basse carico il filo una volta in questo spazio prima del petalo vado a fare un punto v quindi una maglia alta 3 catenelle 2 3 un'altra maglia alta nello stesso punto di base 2 catenelle nel primo arco tra un petro e l'altro vado a fare una maglia bassa 2 catenelle l'altra maglia bassa vado farla tra secondo e terzo petalo 2 catenelle 1 e 2 salto il petalo vado a lavorare sulla maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto il petalo vado a lavorare sulla maglia alta 2 catenelle 1 e 2 centrale tra i due fiori lo stesso motivo nel primo giro quindi carico il filo una maglia alta sulla sulla maglia alta doppia e nello stesso punto di base faccio 3 catenelle 1 maglia alta doppia una catenella una maglia alta doppia 3 catenelle 1 maglia alta questo è il centro del ventaglio e questo sarà sempre lavorato con i due fiori in doppio 2 catenelle 1 2 entro nell'arco tra il primo petro il secondo e faccio una maglia bassa 2 catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle entro tra il secondo il terzo petalo e faccio una maglia bassa 2 catenelle carico il filo entro nello spazio questo l'ultimo e faccio il punto v quindi una maglia alta 3 catenelle una maglia alta una catenella vado fare una maglia alta doppia nella quinta catenella contando da dalla prima del giro precedente ora riprendiamo il giro dei petali per di giro il mio lavoro inizio con 7 catenelle tutti i giri dei petali iniziano sempre con 7 catenelle e invece quelli del giro questo più con le maglie basse inizia con 5 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 carico due volte il filo ora vado fare il fiore in questo punto v quindi ripeto il motivo entrando in ogni catenella e facendo i miei petali con le maglie alte doppie non chiuse chiuse insieme una volta due volte la terza e chiudiamo tutto primo petalo 3 catenelle di separazione secondo petalo nella seconda catenella 1 2 e 3 chiudiamo 3 catenelle terzo petalo due volte il filo terza catenella del punto v 3 maglie alte doppie chiuse a metà e poi chiusi insieme nell'ultimo gettato vediamo 2 catenelle di separazione qui avevamo fatto nel primo nel giro precedente 3 archetti di 2 catenelle andiamo fare una maglia alta alta semplice nella nell'archetto centrale di 2 catenelle 2 catenelle ora siamo sul sul centro andiamo fare la stessa lavorazione di sotto carico due volte il filo salto questo archetto vado fare il fiore nel nell'archetto di 3 catenelle quindi un petalo ogni catenella e facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto in questo petano in questo fiore una catenella di separazione carico due volte il filo vado fare una maglia alta doppia qui in questo archetto di una catenella sottostante tra le due maglie alte doppie del giro precedente una catenella di separazione ora rilavoriamo lo stesso fiore tornando indietro in questo arco di 3 catenelle 2 catenelle di separazione carico il filo vado a fare una maglia alta nel l'archetto di 2 catenelle quello centrale dei tre sottostanti 2 catenelle ora andiamo ripetere il fiore su questo punto v che abbiamo fatto nel giro precedente che era quello che dà l'aumento e che agire alterni andrà fatto per aumentare quindi accrescerà il lo scialle di un fiore parte l'altra ogni due giri e quindi carichiamo due volte il filo e andiamo a fare un altro fiore fiori sono sempre uguali e sono sempre di tre petali e sono divisi da 3 catenelle di separazione e ogni petalo è costruito su una catenella delle tre del punto v sottostante terminiamo giro con due catenelle e una maglia alta tripla nella quinta catenella contando dalla prima del giro precedente una due tre e quattro che per chiudere la terza la maglia alta tripe servono quattro passaggi ora vi rifaccio vedere il giro quello intermedio tra un fiore l'altro mi alzo con 5 catenelle un girato il mio lavoro 3 4 4 5 catenelle vado a fare l'aumento quindi carico il filo in questo primo spazio faccio il punto v quindi una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta una e due due catenelle faccio una maglia bassa tra il primo arco tra un petalo e l'altro il fiore 2 catenelle seconda maglia bassa il secondo arco del fio tra i petali 2 catenelle punto v lo vado a fare su questa catenella su questa maglia alta che c'è tra un fiore l'altro poi aumentando il aumentando lo scialle la misura dello scialle sarà sempre uguale perché aumenteranno anche i fiori aumenteranno le maglie alte queste qua tra un fiore l'altro e quindi ci sarà un punto v su ogni di queste maglie alte 3 catenelle di separazione e un'altra maglia alta 2 catenelle la maglia bassa qui nel primo arco del fiore 2 catenelle la seconda maglia bassa qui nel secondo arco del fiore 2 catenelle e qui siamo già sul centro e quindi ripetiamo nello stesso punto di base è questa maglia alta centrale questa maglia alta doppia andiamo fare una maglia alta 3 catenelle una maglia alta doppia una catenella un'altra maglia alta doppia tutti nello stesso punto di base 3 catenelle e una maglia alta su questa maglia alta doppia centrale sottostante 2 catenelle e ora torniamo indietro una maglia bassa nel primo arco trompetalo e l'altro 2 catenelle seconda maglia bassa tra secondo e terzo pietro sottostante 2 catenelle mai punto v su questa maglia alta sottostante quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta nello stesso punto di base ripetiamo 2 catenelle maglia alta maglia scusate maglia bassa tra un petto l'altro 2 catenelle catenelle maglia bassa un altro spazio per secondo e terzo pietro 2 catenelle altro aumento alla fine del giro quindi in questo spazio qua ultimo facciamo un punto v una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base terminiamo con una catenella e una maglia alta doppia nella quinta catenella contando da sotto ecco qua questo è il motivo che voi dovete ripetere e sono giri due giri sempre che si ripetono il diritto del lavoro poi quando avete finito sarà dove c'è il petalo sulla parte diritta io qui ho un altro campion c un campione un po più grosso e adesso vi farò vedere fare l'ultimo giro dei fiori con il pipiolino che sarà il giro che terminerà il vostro sale quando avete raggiunto la vostra larghezza desiderata delle uscialle terminerete se vi piacerà con il giro di fiori e pipiolini possiamo farlo vedere anche sul campione piccolo allora ora facciamo il giro finale che voi farete nel nell'ultimo giro del vostro sale raggiunta la misura desiderata allora mi alzo con 7 catenelle che sostituiscono 34 scusa per 67 che sostituiscono la prima maglia alta tripla e la catenella carico due volte il filo qui c'è prima l'aumento precedente vado fare i miei fiori quindi faccio il primo petalo 3 maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso punto di base adesso ci sarebbero le catene 3 catenelle tra un petro e l'altro andiamo a fare una catenella 4 catenelle una maglia bassa nella seconda lavorata una catenella e riprendiamo fare il secondo petalo quindi carico due volte il filo e facciamo secondo petro nella seconda catenella 1 2 3 chiudiamo una catenella 4 catenelle 2 3 4 una maglia bassa nella seconda lavorata una catenella terzo petalo carico due volte il filo faccio il terzo petalo mentre nella terza catenella 2 catenelle di separazione carico il filo faccio una maglia alta qui nell'archetto centrale 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 e anche qui vado a fare un pepiolino quindi faccio 4 catenelle 1 2 3 4 però qui lo chiudo sulla base della maglia alta con una mezza maglia bassa 2 catenelle e il cominciò lavorare il fiore sull'altro punto v quindi due volte il filo prima catenella del punto v una catenella 4 catenelle 1 2 3 4 lo chiudo con una maglia bassa nella seconda lavorata una catenella e via così quando sarete qui che avrete fatto il primo pet il primo è la prima serie di petali nel primo punto v e farete una catenella di separazione come avete fatto qua e questa maglia alta doppia qui in centro sulla maglia alta doppia andrete a fare lo stesso lavoro che ho fatto qui su questa maglia alta facendo il pipiolino ma chiudendolo con una mezza maglia bassa sulla testa della della maglia alta su dove l'avete fatto quindi verrà il sale verrà finito lo sciallo verrà finito in questo modo con un giro con i pipiolini e anche questo progettino semplice corto volevo proporlo perché è una cosa semplice che può esservi utile nella prossima stagione nelle belle giornate perché è traforato non è troppo pesante e questo motivo più grande io vi saluto con un grande abbraccio e se vi è piaciuto il progetto lasciatevi un mi piace e iscrivetevi al canale alla prossima ciao ragazzi